Gianluca Ciccoianni, oggi presentiamo un centrocampista esperto, anche se è all'esordio nel cambiato italiano, è un giovane di belle speranze. Altri due rinforzi importanti per il nostro picchio? Sì, sono due prospetti molto interessanti, come ho detto prima, uno giovane, uno un po' più esperto. Confidiamo molto in loro. Da quando si parlava di Ferrigra l'ho iniziato un attimo a studiare ed è un giovane molto promettente, anche il fatto che sia stato capitano di una società come il Torino, anche dai suoi trascorsi con il Barcellona, stiamo parlando di un prospetto molto interessante. Di Davide l'ho iniziato a studiare tre anni fa quando si è parlato di un suo passaggio all'Ascoli ai tempi di Francesco Marrocco e quindi quando quest'anno hanno riproposto questo nome sono stato molto contento per lui e anche per il fatto che ha origine vicina ad Ascoli, quindi è ben accetto. Da un punto di vista di calciomercato non siamo abituati ad essere al 14 agosto con il 95% della rosa praticamente completata, è sintomo di una società forte che ha l'idea chiare di essere tesoro, ha fatto un bel lavoro. Sì, questo diamo merito al nostro direttore sportivo, diamo merito a tutta quanta la società, è importante magari rispetto agli altri anni che c'era ancora un via vai di giocatori che andavano e venivano. Quest'anno anche con il fatto della collaborazione del Fano il nostro lavoro si è un po' raddoppiato e ci apprestiamo a partire con il piede giusto dalla partita di Coppa con il Trapani e ci auguriamo di far meglio dell'anno scorso visto che partiamo con questo piccolo vantaggio di avere già quasi la rosa al completo. Partita alla grande anche la campagna abbonamenti, abbiamo già superato abbondantemente quota 2000, l'amore dei tifosi dell'Ascoli non lo scopriamo oggi, ovviamente la speranza è che siano tutti uniti a incitare il picchio perché poi la differenza la fa sempre il popolo bianconero, nei momenti di difficoltà soprattutto quella curva, quei settori caldi fanno la differenza e fanno vincere le partite. Io in questi sei anni che sto qui ho sempre riscontrato questo amore incondizionato da parte della gente, essendo Ascolano so anche la passione e l'amore che ci hanno verso i nostri colori, anche ultimamente si sono dette delle cose, piccole polemiche, piccole cose, però io vedo anche nei social, spesso si ripropone la figura di Costantino Rozzi e Costantino Rozzi giustamente diceva che l'Ascoli viene prima di ogni cosa, quindi poi tutto il resto diciamo fa da contorno, l'importante è che l'Ascolano abbia bene in mente, lo sa benissimo che insomma viene prima l'Ascoli e poi tutto il resto. Abbiamo parlato di cuore Ascolano, facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi dell'Ascoli e Ascolani che sono andati al Fano a partire da Carpani, che insomma è stata una bandiera di queste stagioni, ma tutti gli altri che possano veramente far bene alla corte di Gaetano Fontana, un tecnico che lei conosce molto bene. Sì, infatti con Gianluca non ho avuto modo di salutarlo, lo faccio adesso pubblicamente qui, gli auguro, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto quello che ha dato all'Ascoli, perché io ricordo benissimo quell'infortunio vicino alla linea di fondo su una palla insomma che non era nemmeno di vitale importanza in quel momento. Il fatto di essere stato una bandiera dell'Ascoli io credo che a lui gli faccia molto onore e comunque sia, io penso sempre che non siano mai degli addi, ma spero anche che possano esserci degli arrivederci, come molti altri ragazzi che sono andati a Fano, che è guidata da un tecnico di cui ho una grande stima, di cui ha al cuore i colori bianco-neri, quindi anche una piazza tranquilla, quindi anche tipo un Tassi che secondo me ha molto più spazio rispetto a quello che hanno avuto. E magari te l'ho detto, spero che siano degli arrivederci, non degli addi. L'ultima riguarda il settore giovanile perché ieri c'è stato un bellissimo momento ad Amatrice, e sappiamo che significa tornare a giocare ad Amatrice, questo allenamento congiunto col Trastevere, c'era Sergio Pirozzi, è stato bello, un test anche per quello che sarà poi il lavoro alla Guida della Primavera di Abascal, poi nei prossimi giorni verrà presentato tutto l'organigramma. Sì, presto verrà presentato tutto l'organigramma, sono stato molto contento di essere andato da Amatrice perché sono dei posti a cui sono molto affezionato, ho parlato anche con molta gente del posto, ci sono molti tifosi ascolani, ce ne sono molto di più di quelli che pensavo. Mi hanno anche proposto un qualcosa per l'anno a seguire, che farebbe piacere fargli delle amichevoli dell'Asco, anche come settore giovanile o prima squadra, anche come ritiro tutto quanto. Quindi è un territorio che noi vogliamo essergli vicini, perché loro ci hanno dimostrato anche nel loro piccolo, nella partita di ieri, molto affetto e molto amore. Abascal già sul pezzo. Abascal l'ho visto, abbiamo iniziato, ho visto ieri delle trame di gioco molto importanti, abbiamo avuto anche i complimenti da parte degli avversari, da Trastevere, comunque sia, è sempre la terza squadra di Roma, che fa la Serie D, che hanno una squadra per salire, quindi ci ha fatto enormemente piacere questo incontro che c'è stato, adesso ci saranno altre amichevoli, prossimamente con la prima squadra, siamo fiduciosi e vi presenteremo il progetto appena completato, ma è a breve. Grazie.